Blocco animalista organizzato un presidio di protesta contro i canili Lager presenti nella regione Lazio e contro la derattizzazione cruenta. Questo presidio è un presidio molto importante, in questo momento in cui non ci sono soldi nemmeno per mangiare, nemmeno per le persone, si sta cercando di eliminare, di togliere i soldi agli animali. Questo non è proponibile perché noi come Blocco animalista siamo un'associazione antispecista, per noi tutti gli animali hanno pari dignità e pari diritto alla vita. In questo caso noi stiamo presidiando davanti alla regione Lazio appunto per questo, per cercare di far capire alla regione Lazio che non è possibile più dare soldi indiscriminatamente a canili che si rivelano essere canini Lager, canili in cui praticamente gli animali sono maltrattati dalla mattina alla sera, non mangiano e quando mangiano praticamente mangiano delle crocchette di bassa qualità. Considerate che per esempio ci sono canili in cui ci sono 400 cani che vengono tenuti da una persona sola. Di quali canili parli? Non possiamo dirlo perché altrimenti becchiamo la denuncia sia noi che voi.